Ciao a tutti, sono Alessandro di Performance Lab e questa settimana parliamo di volume di allenamento ottimale. Quando parliamo di volume di allenamento ottimale ovviamente la prima distinzione da fare è quella di parlare di alto volume o alta intensità di allenamento. Quale è la migliore, in quale contesto ovviamente, se parliamo di atleti allenati, se parliamo di atleti non esperti, di forza o di endurance, insomma cerchiamo di capire qualcosa di più in questi articoli. Non mi anticipo niente, ci vediamo fra qualche secondo. In questo primo articolo valutiamo quella che è proprio la differenza tra allenare con alto volume o alta intensità. Qui si parla di diverse tipologie di sport come canottaggio, nuoto, kayak, corso su pista, ciclismo su pista, in cui il contributo energetico deriva sia da fonti aerobiche che anaerobiche. Sicuramente la parte aerobica domina il fabbisogno energetico in linea di massima anche a livello fisiologico dopo 75 secondi di sforzo quasi massimale e ha il maggior potenziale di miglioramento con l'allenamento. La maggior parte dell'allenamento volto al miglioramento quindi di questi eventi è finalizzata a migliorare la capacità aerobica. In questo studio è stato analizzato un periodo da 6 a 8 sessioni nell'arco di 2-4 settimane di allenamento intervallato ad alta intensità come potete leggere con ripetute di sessioni di esercizi eseguiti a intensità prossima o nettamente superiore a quella del VO2max intervallate da esercizi a bassa intensità o da riposo completo quindi un protocollo AIT. E' stato visto che questo poteva provocare un aumento delle prestazioni di esercizio intenso fino al 4% in atleti ben allenati. Come premessa sicuramente è meno discussa l'influenza dell'allenamento ad alto volume ma anche qui gli autori concludono come la sua importanza non vada sminuita poiché anche l'allenamento ad alto volume è in grado di portare miglioramenti da un punto di vista metabolico. Secondo gli autori si dovrebbe allenare, non c'è una dicotomia, questo è il primo studio ed è interessante proprio perché già mette un paletto ossia non è bianco, non è nero ma un 75% del volume a bassa intensità e quindi ad alto volume, quindi una buona percentuale mentre un 10-15% ad intensità molto elevate quindi con il metodo per esempio AIT potrebbe essere una buona distribuzione del volume totale di lavoro per quanto riguarda atleti di livello o comunque elevato, atleti di alto livello. Nel secondo studio della settimana invece analizziamo anche qui quelli che sono un confronto tra basso volume alta intensità e alto volume per quanto riguarda l'allenamento della forza e i suoi effetti per quanto riguarda la performance muscolare, la composizione corporea e i test di valutazione. In questo caso si sono affrontati due approcci di resistance training, quindi di allenamento di forza, AIT, definiti AIT o alto volume bodybuilding, due volte a settimana per 10 settimane. I entrambi gruppi, sia AIT che resistance training, hanno migliorato le prestazioni muscolari in modo significativo. L'AIT ha registrato incrementi di prestazione muscolare significativamente maggiore per 3 dei 9 esercizi testati rispetto al resistance training, ossia al bodybuilding, scusate ho chiamato resistance ma in teoria mi riferivo al bodybuilding, e dimensioni di effetto maggiori per 8 o 9 esercizi. La composizione corporea non è cambiata significativamente in nessuno dei due gruppi, tuttavia le dimensioni di effetto per le variazioni di massa muscolare corporea erano favorevoli al gruppo AIT rispetto al gruppo bodybuilding, sia per quanto riguarda anche la massa corporea e la percentuale di grasso corporeo. Quindi è possibile per quanto riguarda le prestazioni muscolari ottenere dei miglioramenti sia con l'HIT che con il bodybuilding training, tuttavia l'allenamento e le prestazioni muscolari, e questo potrebbe sorprendere alcuni, anche quando parliamo di allenamento della forza, quindi anche quando parliamo non soltanto risultati in termini di esercizi ma anche in termini di ricomposizione corporea, possono essere migliori con l'HIT. Terzo studio della settimana in cui anche qui si analizza il concetto di allenamento polarizzato, e quindi bianco o nero, allenamento ad alto volume, allenamento a soia o allenamento ad alta intensità, o una combinazione di questi tre concetti definito appunto allenamento polarizzato. Si analizza quale di questi quattro metodi, chiamiamolo così, quindi tre ben definiti e uno che comprende una combinazione dei tre precedenti, fornisca la risposta maggiore per quanto riguarda atleti in questo caso di endurance. Il test è stato, o meglio, lo studio è stato effettuato su corridori ciclisti, atleti e sciatori di fondo, quindi comunque atleti che avevano anche dei valori interessanti, per esempio qui per quanto riguarda il picco di VO2, hanno svolto per nove settimane una delle quattro combinazioni di lavoro, sono stati eseguiti un test incrementale, uno di economia del lavoro, un test di VO2, di picco di VO2. Il gruppo polarizzato, anche qui, ha dimostrato il maggior aumento del picco di VO2, del tempo di esaurimento durante il protocollo a ramping, della velocità, del rapporto della velocità a potenza di picco, il rapporto velocità a potenza a 4 millimoli su litro aumentata dopo il protocollo di lavoro polarizzato e HIT, mentre non c'erano differenze tra i gruppi per quanto riguardava l'economia di lavoro da prima a dopo. La massa corporea, o meglio la massa grassa, si è ridotta del 3,7% per HIT, senza variazioni negli altri gruppi, piccolo miglioramento dell'economia di lavoro per quanto riguarda il gruppo a soglia, anche per quanto riguarda, o meglio, invece per quanto riguardava le alte variabili di performance nell'HVT, e quindi l'alto volume a bassa intensità e l'allenamento a soglia hanno migliorato la prestazione. Di conseguenza si conclude che l'allenamento polarizzato, quindi la combinazione anche qui di allenamento a soglia, allenamento ad alto volume e allenamento a alta intensità, si legge qualcosa sulle percentuali di lavoro per quanto riguarda lo studio che vi invito a leggere, ha prodotto i migliori risultati anche in atleti qui molto ben allenati. Anche qua una meta-analisi in cui si analizza, quello che è l'obiettivo della settimana, quindi ormai avrete capito, protocollo ad alta intensità e allenamento ad alto volume. In questo caso si analizzavano gli effetti dell'HIT sulla potenza aerobica tramite la valutazione del Vol 2 Max sulla capacità di sprint. È stato svolto un protocollo HIT alla basso volume in uno studio controllato in cui sono stati riscontrati dei moderati aumenti nel Vol 2 Max rispetto al gruppo di controllo e si è allenato a medio-alto volume. Ci sono stati dei miglioramenti anche per quanto riguarda atleti sedentari, quindi sia nei gruppi allenati sia nei gruppi non allenati c'erano miglioramenti per quanto riguarda le variabili di Vo 2 Max. Come vedete qui potete leggere tutte quante le differenze che ci sono tra i soggetti allenati e non allenati, maschi e femmini, insomma è stato fatto un interessante confronto tra i risultati ottenibili nei vari gruppi di lavoro. Però in linea di massima quello che deducono i ricercatori è che l'HIT, quindi altissima intensità, basso volume, è in grado realmente di produrre miglioramenti sulla potenza aerobica anche in soggetti attivi non atletici sedentari. Mentre non sono chiari in questo caso i modificatori di sesso e dose di HIT sulla potenza aerobica per quanto riguarda la capacità di sprint è sempre sullo stesso campione. Ultimo studio della settimana che analizza tre diversi volume di resistance training, quindi dell'allenamento della forza, sui parametri di forza massima e potenzia media in atleti di sport di squadra universitari che non si erano mai approcciati a resistance training, questo è un altro aspetto interessante che mi premeva portarvi perché poi uno giustamente potrebbe trarre delle conclusioni sbagliate rispetto a tutto quello che ci siamo detti finora. In questo caso sono stati analizzati 32 soggetti suddivisi in 4 gruppi, basso volume, una serie per esercizio e tre serie per gruppo muscolare, volume moderato, due serie e sei serie per gruppo muscolare, alto volume, tre serie per esercizio e nove serie per gruppo muscolare. Gruppo di controllo ovviamente non ha svolto niente. Sei settimane di lavoro con cadenza trimestrale e secondo un programma di allenamento non periodizzato, differenziato appunto solo per il volume, ovviamente. Sono stati fatti tutta una serie di test, per esempio sulla bench press, sul row, sullo squat, attraverso i test di forza 1RM o comunque progressivi, i test di ramping, sono stati analizzati l'1RM, i quali sono aumentati significativamente in tutti e tre i gruppi di intervento, ma solo il gruppo high volume ha migliorato significativamente 1RM di squat. I gruppi medio e alto volume hanno aumentato le potenze medie massime per quanto riguarda la bench press, mentre solo il gruppo low volume ha migliorato l'average power, quindi la potenza media sullo squat. Sono state osservate dimensioni di effetto moderate per l'1RM, sul bench press e sulla pride row, nei tre gruppi di allenamento, il gruppo ad alto volume ha mostrato maggiori differenze di effetto per quanto riguarda l'1RM della bench press, della pride row e dello squat. In linea di massima, la conclusione che fanno gli autori è che, a mio avviso sacrosanta, durante un periodo iniziale di approccio all'allenamento, un programma ad alto volume è una strategia migliore per aumentare forza, mentre durante la stagione un protocollo a basso volume potrebbe essere un'opzione ragionevole per mantenere la forza e migliorare la potenza media della parte inferiore, quantomeno, del corpo negli atleti di sport di squadra. L'aspetto interessante da portarsi a casa è che gli atleti non erano allenati, quindi in un protocollo di approccio all'allenamento della forza, lavorare ad alto volume, in quanto molto probabilmente gli atleti non riescono ad esprimere alta intensità, inteso anche come ovviamente carichi di lavoro, è una strategia valida e vincente rispetto ad allenare a basso volume, per tantissimi motivi, possiamo lavorare sullo schema corporeo, possiamo lavorare sul miglioramento dell'economia del gesto, insomma ci siamo capiti, però ecco questo che credo che sia, dopo tutto quello che ci siamo detti in cui probabilmente il messaggio che passa è l'alta intensità è migliore, bene, ok, sì, ma l'alto volume è importante in determinati contesti. Come ogni settimana abbiamo cercato gli articoli più interessanti su una determinata tematica, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a mettere mi piace e a commentare se avete qualche dubbio o qualche domanda. Potete trovare i nostri articoli di questa settimana e tanto altro materiale al nostro blog nel link qui sotto. Vi ricordo ovviamente di mettere anche mi piace al nostro canale ad attivare la campanella così da non perdere tutti gli appuntamenti del canale YouTube di Performance Lab e ovviamente il prossimo fine settimana con The Weeks Review. Ci vediamo al prossimo weekend, un saluto! Grazie a tutti!